E ti hanno preso in giro per il tuo peso, è così? Sì, stavo cercando di fare il mio lavoro, se la sono presa con me e hanno detto che sono grasso. Dimmi cos'è successo precisamente. Questi ragazzi stavano passando a fianco a me, così ho chiesto a uno di loro di farmi una foto. E lui me l'ha fatta, più tardi a casa ho caricato, ho pensato che la gente sarebbe stata entusiasta. Stamattina ho letto i commenti e alcune persone mi insultavano dicendo che non ero muscoloso ma che ero grasso e flaccido. Internet si è preso gioco di me. Nessuno dovrebbe provare quel tipo di vergogna. Tutti i commenti inappropriati e offensivi andranno cancellati ed esclusi. Sì, no, te l'ho già detto Trash, è qualcosa di meraviglioso, mi stampano i commenti positivi e tutti quelli negativi li fanno sparire. Ma la cosa più bella è che mai da quando ho iniziato mi era accorta di essere così amata da tutti i follower. Spazio sicuro per tutti, noi possiamo davvero fare la differenza. Ci sono altre persone che meritano di essere felici tanto quanto lui. Chiamami fighetta, tanto il mio spazio sicuro. Sicuro, sicuro. Prova di bullo. Posso non piacerti ma non avrà il mio spazio. Sicuro, sicuro. Guarda quanti amici che è qui nel tuo spazio. Sicuro, sicuro. Ho chi mi sostiene e viene a me, lontano dagli stronzi e torna a me. Solo arcobarini, qui nel mio spazio sicuro. Prova di bullo. Non avrete spazi al sicuro. Pezzo per pezzo li distruggerà. Aspetta, è quello che è. Tu non puoi impedirlo, nessun mi fermerà. Sono dura e sospietata e il mio nome è... Realtà. Oh no, è proprio realtà. Presto qualcuno lo fermi. Ci penso io dire... Non puoi rovinarci la vita. Questo spazio non violerai. Oh no! Accettiamo già molte cose ma... Dalla realtà non ci rivediamo. No! Prova di bullo. A prova di tro... Il mio spazio. Che figata. Affinché a nessuno venga più detto... Grazie. Negato con gli attrezzi. Lesbica. Brutto, brutto, salta a fila imbroglione. La vergogna, la vergogna per tutti. Elimina, elimina anche questo. Abbiamo un problema. Che succede? Realtà è entrato e vuole rovinare la festa. Cosa? Realtà? Ma chi l'ha fatto entrare in me? Dammi sto coso, troietta. Che bella serata. Ora sarete a posto con la vostra coscienza. Che cavolo avete in testa? Siete tristi perché la gente è cattiva. Mi spiace per voi, ma il mondo non è un campus di lettere e filosofia. Mangiamo troppo. Diamo per scontate le nostre vite viziate e siamo anche tristi. Il punto è che volete soltanto postare le vostre puttanate su internet e avere ammirazione. Brutti coglioni. Oh, santo cielo, che cosa abbiamo fatto? Non avrei mai pensato di arrivare a questo. Lo sapevo. Lo sapevo, ho preteso troppo. Ehi, ascoltatemi. Forse abbiamo ancora un modo per cercare di rimettere a posto ogni cosa. Sicuro che sia una buona idea? Guarda cosa si dice in rete del mio salsicciotto. Piace a tutti quanti. In rete non ci sono solo due persone. Piace a tutti quanti.